sarà così, partiamo, facciamo una passeggiata in via Roma fino alla rotonda di via Miola poi torneremo indietro e ci saranno tre punti dove ci vedrete dei disegni di bambini dove ci saranno tre esperti che parleranno degli alberi e poi davanti al colorificio, dall'altra parte della strada, ci sarà un punto dove i bambini potranno colorare e disegnare e poi al ritorno su ogni albero volevamo appendere un cartellone come questo per dare un segnale e speriamo che qualcuno ci ascolti Buon pomeriggio, grazie